Stiamo mostrando un tweet, allora, sostanzialmente adesso dovrebbe essere una riforma condivisa. Lo stesso Renzi, gennaio 2014, scriveva su Twitter Legge elettorale e le regole si scrivono tutti insieme e se possibile farle a colpi di maggioranza è uno stile che abbiamo sempre contestato. Invece, secondo lei, adesso andrà avanti a colpi di maggioranza in un'aula semivuota come la riforma del Senato o cederà? Diciamo che Renzi è un mentitore seriale. È una parola che abbiamo utilizzato più volte in aula riferendoci a lui e questa è la dimostrazione. Renzi è un mentitore seriale, è pericoloso per il Paese perché ricorda un'altra persona che era un altro mentitore seriale che era prima di lui Silvio Berlusconi.